Nemmeno le misure anti-covid-19 erano riuscite ad interrompere la loro attività illecita. Ogni giorno, infatti, continuavano a spacciare cocaina e marijuana in zona pescaiola. Ma adesso sono stati individuati e fermati dai carabinieri. Nei guai sono così finiti due giovani italiani, un 31enne ed un 24enne. Per il primo sono schiattate le manette, mentre l'altro è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini dei militari erano iniziate a seguito delle numerose segnalazioni da parte dei residenti che da tempo denunciavano una quotidiana attività di spaccio nella zona. A seguito degli accertamenti e dei riscontri effettuati, i carabinieri hanno così individuato e sorpreso i due in flagranza di reato mentre stavano cedendo alcune dosi di stupefacente a dei consumatori. Una volta fermati, i carabinieri hanno poi provveduto alle perquisizioni domiciliari. All'interno delle abitazioni, i militari hanno trovato così cocaina e marijuana, alcune decine di grammi, già suddivise in dosi pronte per la vendita. I carabinieri hanno poi trovato anche del materiale per il peso, il taglio e il confezionamento delle sostanze, oltre ad alcune migliaia di euro in contanti sequestrati poiché ritenuti provento dell'attività illecita. Il 31enne è stato infine condotto su disposizione dell'autorità giudiziaria presso la casa circondariale di Arezzo.